Buongiorno, buongiorno, dottor Claudio Seracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale. Oggi ragazzi parleremo di chi può dire cosa hai te, chi può fare una diagnosi, chi può entrare nella tua mente e capire come stai e come non stai. Naturalmente qui dipende sempre dallo stato nazionale in cui risiedi, perché non tutti gli stati nazionali del mondo ragionano allo stesso modo. Va bene? Quindi è fondamentale questa distinzione. Ti posso soltanto ripetere un passo della dottoressa Rina Brunini quando mi insegnò l'ipnosi vera professionale di Los Angeles Beverly Hills. Le distinze tra ipnologo, psicologo e psichiatra o medico. Lo psicologo parla alla coscienza, è lui che fa la diagnosi, è lui che ti dice cosa hai e cosa non hai, se sei depresso, se sei triste, se hai ansia, panico e non può darti farmaci. Lo psichiatra parla anche egli alla coscienza ed è lui che fa una diagnosi e ti dice cosa hai e cosa non hai e poi ti dà degli psicofarmaci per legge. Non in tutti i paesi è così, attenzione, diciamo nella maggior parte dei paesi. Mentre l'ipnologo non parla alla tua coscienza, parla al tuo pilota automatico, al tuo subcosciente, a quella forza della mente, l'88% che ti guida anche contro la tua volontà. Questo è fondamentale che pochi afferrano, anche, ascoltami bene, nel mondo dell'ipnosi vera e professionale. Per non sai cosa hai, cosa non hai e vuoi veramente cambiare la tua esistenza e la tua vita, devi, ripeto, devi o puoi, se vuoi, scaricarti degli audio mp3 dcs che possono fare per te o per il tuo caro, senza chiedere diagnosi. La diagnosi te la fa un professionista della salute oppure il tuo medico curante a cui ti devi sempre comunque rivolgere a prescindere che sei in uno o in un altro stato in cui è consentito anche non chiedere. Devi sempre andare, ti siedi e una volta che hai la diagnosi, perché tu magari per pigrizia, perché sei incompetente, perché non ci credi, perché, 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 non sai cos'hai, non sai definirla bene, ti rivolgi al tuo medico curante, allo specialista della salute del tuo, del paese in cui risiedi e poi solo dopo ti scarichi un audio mp3 dcs che può fare per te oppure per il tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto o l'aiuto di nessun professionista né online né dal vivo. Ti posso garantire che c'è una fetta della popolazione mondiale che non vuole essere aiutata. Vuoi per i sensi di colpa, che significa autopunirsi, punirsi da soli, vuoi per altri motivi, ma stanno davanti alla tv o nel letto e non fanno nulla, perché non credono a nulla. A parte la vergogna di andare presso un professionista della salute mentale o fisica, a parte quello, sono così negativi che non vogliono essere aiutati, perché nel loro subcosciente magari esiste il senso di colpa, ma soltanto loro sanno cos'hanno. Attenzione, non sono io né i miei associati, anche se nell'associazione i prologi associati di Los Angeles Beverly Hills contiamo molti medici, psicoterapeuti, psicologi di caratura internazionale, non facciamo diagnosi, non curiamo, non facciamo terapia né cura. Devi sempre e comunque, se hai dubbi, andare dal tuo medico curante o dallo specialista della tua salute. Però ti posso garantire che chi non fa nulla, chi non ama farsi aiutare, perché ha senso di colpa, che quando siamo piccoli, il senso di colpa significa punizione da parte del genitore, ma quando cresciamo il genitore non c'è più, perché siamo indipendenti e la punizione ce la diamo da soli, con dolori cronici, con la sfortuna, con limiti, problemi che con la ragione non riesce ad afferrare. E c'è un famoso proverbio che dice, la ragione, il cuore, le sue ragioni, che la ragione non conosce. Il cuore è il subcosciente, ragazzi, è il pilota automatico, quello che gestisce tutto di più della nostra vita, dal nostro corpo, che chi ne dica qualche guru, qualche illuminare della scienza moderna, ai nostri comportamenti, alla nostra vita visibile e invisibile. E sto parlando io, il sottoscritto, che da più di 12 anni si auto-ipnotizza H24 dal 2008 ad oggi, con risultati incredibili nella mia vita. E tu considera che sono partito da studente lavoratore senza una lira in tasca vicino a Milano, in quel di Modena, ed ero la persona più negativa, più stressata, più pessimista, più, 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 più al negativo che ci sia su questa terra. Perché ero così? Perché ero stato ipotizzato da mio padre, burbero, bravo papà, tutto quello che vogliamo, però perdevo la pazienza in un anno o secondo, mamma mezza suora mancata, ero cresciuto tra il diavolo e l'acqua santa. E in più tutti i miei amici del paese e tutto il sistema che mi circondava parlava molto male di chi era felice o di chi stava bene. Io mi ricordo che prendevo, aprivo i baci per Uggina, vedevo le frasi positive di poeti, scrittori e compagnia bella, le accartocciavo, appena leggevo una frase, una parola positiva, le buttavo nella pubella di Corinfrancia, nel secchio della spazzatura, dicendo sono fesserie. Poi nell'arco della mia vita ho cambiato idea. Con i fatti, con i fatti, per cui prima di essere un professionista dell'ipnosi, di CS, vera e professionale, il sottoscritto è un mentore, ti sa dire per filo e per segno come ti senti, dove ti trovi, cosa fare e dove appoggiare il piede al prossimo passo. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, devi pensare che l'ipnosi, vera e professionale riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come Medicina Alternativa nel 1958, dalla chiesa con Papa Pionò nel 1847. E ricordati, tutti sanno dipingere, ma nessuno, ma pochi sono artisti, perché ho anche lo stesso mondo dell'ipnosi, vera e professionale, ascoltami bene, molti lo fanno per tirare l'acqua al proprio mulino, per la famosa pagnotta, io grazie a Dio non ho bisogno di mangiare perché sto bene per le prossime 37 vite, perché partito da studente lavoratore senza una ridentasca, grazie al potere della mia mente, il mio subcosciente, all'ipnosi, di CS, vera e professionale di Los Angeles, Beverly Hills, della dottoressa Rina Brunini, del professor dottor Miguel Angel Garai, che non hanno uguali nel mondo, te lo posso garantire, le ho provate e fatte tutte di più, come te magari, hanno stravolto la mia vita e oggi ho tantissime attività in tutto il mondo. E sono qui non per venderti gli Audi MP3 di CS che possono fare per te o il tuo caro, perché la mia associazione ipnologi associati di Los Angeles Beverly Hills ad gestire commercialmente parlando in ogni paese del mondo i miei diritti, i diritti d'autore, delle mie opere d'arte che hanno un 70% di due grandi, di un antico sapere, di due grandi dell'ipnosi, due grandi artisti, la dottoressa Rina Brunini e il professor dottor Miguel Angel Garai che facevano casi con ipnosi impossibili per gli altri esperti di ipnosi, dall'autismo all'ictus, alla paralisi, all'epilessia, chi più ne ha più ne metta, come puoi anche vedere su internet. Ed io ho messo un 30% perché, ripeto ancora una volta, trasmetto le mie esperienze dirette e indirette sul mio corpo, sulla mia mente, sulla mia vita, visibile e invisibile, dal 2008 ad oggi. E se mi sto filmando è perché voglio testimoniare le mie esperienze pratiche sul campo e non i bla 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 bla, poi stringi stringi, zero zero, una volta un uomo ha scritto dottore ma come ho fetti temporanei, non durano molto, con altri audio in francese, bla bla bla, perché non hanno delle suggestioni ad hoc, non hanno un metodo ad hoc che non ti rubi tempo, eccetera, eccetera, eccetera. Fammi tutte le domande il caso, ti prego non credere a nessuna parola del sottoscritto e soltanto credere al potere della tua mente, a cui io un tempo non credevo, quindi oggi credo, in maniera ossessiva a dir poco. Visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com, la mia fanpage su Facebook, ipnosi, autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fai share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me a centinaia e centinaia di persone nel mondo e clicca qua giù nella campanella, sulla campanella sulla destra davanti al tuo schermo per le novità e seguimi anche su Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio, un abbraccio e credi in te stesso.